Ben trovati, Spazio Salute oggi si occupa di tumori alla tiroide ed è con noi il dottor Massimo Torlontano che ringrazio e saluto per questo ritorno negli studi di Padre Pio TV. È responsabile dell'Unità Operativa di Endocrinologia, questo è il termine tecnico diciamo, naturalmente parliamo del nostro ospedale di riferimento che è anche un istituto di ricerca, come sapete casa sollievo della sofferenza e cominciamo sempre un po' dalla BC in ogni argomento perché può essere utile un po' per tutti. Cos'è la tiroide e qual è la sua funzione? La tiroide è un organo di cui penso che tutti avete sentito parlare, è un piccolo organo che si trova, se passiamo la prima diapositiva possiamo anche vedere l'immagine, si trova alla base del collo ed è molto importante perché dalla tiroide dipende la regolazione di molteplici funzioni dell'organismo, riassumendo possiamo dire che il metabolismo dell'organismo è regolato dalla tiroide e molti organi come anche il cuore, l'intestino dipendono dal buon funzionamento, il loro buon funzionamento dipende da un buon funzionamento della tiroide. Quindi possiamo dire che svolge appunto anche una funzione come dire particolarmente multitasking come si dice adesso? Certamente. È una caratteristica tipica della tiroide o no? Sì, è una caratteristica. Quasi tutti gli organi e i tessuti del nostro organismo hanno a che fare con la tiroide, possiamo metterla così. Se la tiroide funziona male ne risentono un po' tutti gli organi del nostro organismo. E però i dati ci dicono che vengono sempre più diagnosticati, più noduli e più tumori alla tiroide. Cosa significa? Ci si ammala di più rispetto a prima? Allora, significa, se vediamo le diapositive, la prossima, che a seguito dell'utilizzo di molte metodiche, anche radiologiche, soprattutto radiologiche o anche un semplice ecodoppler dei vasi del collo, vengono riscontrati noduli della tiroide. Ma perché vengono riscontrati così spesso? Perché i noduli della tiroide sono frequenti nell'adulto. Come vedete, più del 50% degli adulti possono avere noduli della tiroide. Ma c'è da dire, da aggiungere, che la maggior parte di questi noduli non sono clinicamente evidenti e non daranno neanche danni alla nostra salute. Per cui il fatto di trovare un nodulo non deve essere un motivo di ansia per il paziente. Tra l'altro, come era scritto, è raro il nodulo solitario, quindi un motivo in più per non sostituirci noi all'esperto, allarmandoci. Certo, perché noi siamo in una... l'Italia è un paese in cui c'è ancora carenza di iodio. Questa carenza di iodio favorisce la formazione del gozzo, cioè l'ingrandimento della tiroide e la formazione dei noduli fa parte del gozzo. Quindi è raro che il nodulo sia unico perché è una malattia di tutta la tiroide. Per cui, se ci sono noduli, sono spesso multipli. Quindi possiamo comunque anche tracciare, come dire, una linea rispetto al passato, di continuità oppure di miglioramento? Cioè, rispetto al passato c'è una maggiore diagnostica perché si fanno più esami, più esami strumentali. Questo ha portato a che cosa? Al fatto che aumentando la diagnostica poi si fanno più esami su quel singolo nodulo, si fanno esami per diagnosticare eventualmente una malignità rara, ripeto, che però è possibile, circa il 5% dei noduli da tiroide possono essere dei tumori. E quindi questo aumento di diagnostica, vediamo anche la prossima diapositiva. Sì, questo riguarda i fattori di rischio anche. Sì, il fatto di trovare tanti noduli porta poi anche a un aumento, ha portato in questi anni, negli ultimi 20 anni, a un aumento nella diagnosi di tumori della tiroide. Però se vedete bene, adesso vi spiego le due diapositive, cosa ci dicono? Che negli anni, dagli anni, fino agli anni 70 fino al 2010, mi sembra che arrivi questa statistica, l'aumento è ben evidente, però è a carico dei tumori meno aggressivi. Nel nostro caso… Sì, noi stiamo vedendo la linea superiore, naturalmente. Esatto, il carcinoma papillifero è il tumore meno aggressivo. In più, nell'ambito sempre del carcinoma papillifero, i tumori che sono aumentati di incidenza sono quelli più piccoli. E infatti, se vedete, sotto la mortalità per questi tumori in 20 anni non è aumentata. Quindi è aumentata la diagnosi di tumori, ma tumori poco aggressivi. Ah, quelle due linette in basso. Dunque, spieghiamo bene. Esattamente. L'incidenza parte, sulla sinistra, e siamo addirittura al 1975, da un 3 su 100.000. 3 casi su 100.000. E poi sta salendo, via via che si arriva dopo gli anni 90, a quanto pare c'è quasi un'impennata però. Parallelamente. 2.000 ed intorni ci siamo proprio impennati. Questo è parallelo all'utilizzo di nuove metodiche che prima non esistevano. Quindi in realtà è soltanto che lo sappiamo meglio. Esatto, lo sappiamo meglio perché si fanno più esami strumentali. Infatti sulla mortalità invece abbiamo visto proprio la linea sempre la medesima. Quindi i dati comunque, pur avendo più di 40 anni dall'inizio della statistica, non sono allarmanti. Ecco, per nulla. E invece l'altro grafico, come diceva, riguarda in particolare il papillifero. Sì, che è il carcinoma appunto che viene più diagnosticato e appunto sempre a conferma del fatto che sono per fortuna diagnosi non allarmanti. Sarebbe la parte a destra della slide che stiamo vedendo. Con i tondini rossi intorno ci dicono che sono i tumori più piccoli che vengono diagnosticati. Questi tumori piccoli, ovviamente più sono piccoli e meno sono aggressivi. Quindi il discorso e il concetto fondamentale è sempre lo stesso. Una maggiore diagnostica ma per fortuna di tumori poco aggressivi. Tra 0 e 1 centimetro di diametro. Sì, oppure anche fra 1 e 2. La mortalità totale per questo tipo di tumori è inferiore al 5%. Quindi ci rendiamo conto? 95, vediamola al contrario, 95 persone sopravvivono. Diamo subito la bella notizia. Esattamente. Bassissima mortalità. Contrariamente ad altri tumori che hanno una mortalità anche del 50%. Se pensiamo al carcinoma del polmone, più o meno è il 50%. Qua parliamo di meno del 5%. Quindi è una bella differenza. Ecco, è sempre giustamente quando arriva qui da noi sorridente, ci rassicura. Sono facilitati il mio compito, è facilitato dal fatto che per fortuna ci occupiamo di una patologia ben maneggevole. Ecco, noi siamo un po' tutti ormai abituati quasi a riconoscere i sintomi dei fastidi che abbiamo. Qualcuno dice che c'è la tragicità vera e propria dell'autodiagnosi a volte a causa della rete, a causa del fatto che tutti ci buttiamo lì a digitare qualunque cosa su cui ci incuriosiamo. Quindi torniamo invece con lei a un'impostazione un po' più classica. Vale la pena però di conoscere i sintomi. Quali sono? Sì, no, in realtà non ce ne sono perché i noduli non danno sintomi, tranne che siano talmente ingombranti, grandi da dare sintomi da compressione, non so, difficoltà, deglutizione, sensazioni di soffocamento. Ma è una piccolissima parte. Nella maggior parte dei casi i noduli della tiroide in quanto tali sono asintomatici. E così come anche l'eventuale tumore, che può essere in parte di questi noduli, può essere un tumore, ma la sintomatologia non è attesa una sintomatologia, ripeto. E quindi cosa consiglia rispetto a un normale modo di approcciare anche questa eventualità, quando si è particolarmente persone sensibili alla prevenzione di ogni tipo di rischio? In realtà esami specifici per la tiroide si fanno solo se c'è un motivo, quindi se c'è una familiarità. Poi lo vedremo anche nel contributo filmato che c'è tra un po', in cui la mia collega spiegherà quando va fatta l'ecografia. Vi dico solo una cosa, in Corea del Sud, che è una nazione molto tecnologica in cui hanno sviluppato già in anticipo rispetto ad altri, la tecnologia anche degli ecografi, hanno avuto la sventurata idea, sventurata, di fare una screening di massa, ecografia a tutta la popolazione. Allora il risultato è quello che è stato. Ma forse c'era qualche motivo particolare? No, secondo me no. E infatti i risultati li hanno fatti tornare indietro, perché i risultati quali sono stati? Ovviamente hanno trovato noduli a gran parte degli individui, perché sappiamo che la maggioranza ha noduli. Questo ha portato a un eccesso anche di esami diagnostici successivi, a un eccesso di chirurgie, per poi riscontrare magari dei piccoli tumori di 5 mm, 6 mm, 1 cm, che molto probabilmente non avrebbero mai dato segno di sé. Cioè quel paziente avrebbe vissuto la sua vita normalmente senza avere problemi legati a quel piccolo tumore. Stiamo parlando di tumore alla tiroide. Eravamo fermi, perché è importante adesso soffermarci invece, alla questione di agnosi, prima di arrivare alle terapie con il dottor Massimo Torlontano. Sì, quindi parlando di diagnosi, avevo nominato l'ecografia, l'ecografia è l'esame strumentale più accurato per vedere la tiroide, vedere se ci sono alterazioni della tiroide. E ora lo vediamo anche spiegato in questo contributo, dove troveremo la dottoressa Michela Massa. L'ecografia tiroidea è una metodica ormai molto diffusa nella pratica clinica della diagnostica tiroidea. È un esame non invasivo, non doloroso, che non utilizza radiazioni e per tale motivo può essere effettuato in qualsiasi momento della vita dei pazienti, anche in gravidanza. Viene effettuato mediante uno strumento, l'ecografo, dotato di una sonda che utilizza ultrasuoni per ricavare delle informazioni sulla struttura dei tessuti. Le informazioni ricevute vengono visualizzate sul monitor dell'ecografo. L'ecografia tiroidea fornisce informazioni sulla forma della ghiandola tiroidea, sulla struttura della ghiandola, sulla eventuale presenza di noduli tiroidei e sulla ecogenicità della ghiandola stessa. Non ci dà informazioni se la ghiandola tiroidea funziona di meno ipotiroidismo, se funziona di più ipertiroidismo o funziona normalmente in una condizione di eutiroidismo. Non possiamo distinguere se un nodulo è benigno o maligno e in alcuni casi è necessario effettuare un esame che è l'agoaspirato tiroideo, sempre sotto guida ecografica. Quando viene effettuata un'ecografia tiroidea? L'ecografia tiroidea non viene effettuata in tutti i pazienti, ma solo in quei pazienti in cui all'esame obiettivo un nodulo è palpabile o in pazienti in cui è presente una familiarità per tumore della tiroide o in pazienti in cui c'è stata una pregressa esposizione a radiazioni ionizzanti o in pazienti in cui all'esame obiettivo c'è la presenza di un linfonodo palpabile in sede all'atorocervicale del collo. Per cui è sconsigliabile eseguire come screening globale nella popolazione generale un'ecografia tiroidea? C'è soltanto quell'aggettivo palpabile su cui mi vorrei soffermare perché noi donne siamo anche abituate per altri motivi alla questione dell'autopalpazione ma nel caso del diagnosi appunto del tumore alla tiroide c'è, è valido come strumento oppure dobbiamo verificare che sia il nostro medico curante a fare questi movimenti? Beh no, per la tiroide l'autopalpazione non è consigliata deve essere il medico e c'è da dire che un po' tutti purtroppo ci stiamo abituando e non dobbiamo farlo a saltare questa prima fase di esame obiettivo alla palpazione con le mani perché ormai siamo abituati al fatto che abbiamo l'ecografo e quindi facciamo l'ecografia questo è un errore è importante invece che il medico, anche il non endocrinologo abbia questa abitudine perché una volta che si sente qualche irregolarità alla base del collo quello è il momento poi per prescrivere l'esame successivo proprio per evitare di fare ecografie a tappeto inutili o talvolta dannose e adesso dobbiamo fare l'ipotesi appunto di una diagnosi in cui effettivamente riscontriamo il tumore cominciamo a parlare di terapie sì, allora una volta che è stata fatta la diagnosi con l'ago aspirato come ha detto la dottoressa Massa e ci ha dato un risultato dubbio, sospetto per tumore il passo successivo è la chirurgia e la chirurgia cosa consiste? nell'asportazione in blocco della tiroide adesso ci sono anche ultimamente si tende anche a fare interventi minori anche di emitire dettomia cioè di togliere solo la metà della tiroide in cui c'è il nodulo sospetto quello dipende dalle caratteristiche del nodulo dalle dimensioni tra il disegno e la foto sembra esserci molta differenza come mai? beh, la foto ci fa vedere un collo aperto cioè è il dettaglio di quello che sta alla base probabilmente del disegno sì, esattamente poi veramente il disegno ci fa vedere i linfonodi le stazioni linfonodali vicine alla tiroide che vengono questi linfonodi vanno in alcuni casi tolti se c'è un sospetto di interessamento appunto metastatico da parte del tumore della tiroide quindi non vanno tolti sempre ma solo nei casi in cui di solito con l'asportazione non ci sono diciamo sorprese ulteriori? se l'asportazione è stata fatta bene naturalmente la chirurgia viene sempre preceduta da un'altra ecografia proprio per accertarsi che non ci siano linfonodi perché in questo caso vengono segnalati dopodiché poi si passa ancora a un passo successivo e anche questo non si fa più in tutti i pazienti come si faceva prima cioè globalmente anche la chirurgia e anche le terapie successive sono meno invasive meno pesanti rispetto a come si faceva vent'anni fa comunque dopo l'intervento è necessario un trattamento specifico ecco appunto questo trattamento prima si faceva a tutti i pazienti operati adesso si fa solo in una parte di pazienti quelli che hanno caratteristiche tali per cui il tumore può essere un pochino più aggressivo sentiamo in proposito il dottor Antonio Varraso La medicina nucleare svolge un ruolo molto importante nella gestione e nel trattamento della patologia tumorale tiroidea manigna e si avvale a tale scopo di procedure terapeutiche che sono non solo di facile esecuzione ma anche di grande efficacia terapeutica la terapia co-radioiodio viene anche chiamata terapia radiometabolica e viene effettuata in pazienti ai quali è stata asportata in precedenza la tiroide chirurgicamente e utilizzando un radioisotopo lo iodio 131 che si avvale della capacità da parte delle cellule sane o malate sfuggite all'intervento di concentrarlo e di trattenerlo in modo tale da poter esercitare un'azione legata all'emissione beta un'azione appunto radiante che comporta la morte e la distruzione della cellula tiroidea è una terapia quindi estremamente selettiva e come tale il danno ai tessuti circostanti la lesione è decisamente limitato il trattamento va fatto per legge necessariamente in regime di ricovero ospedaliero e quindi in stanze che sono adibite si parla di delgenza protetta sono stanze che hanno evidentemente delle schermature di piombo delle barriere in piombo e si servono di bagni caldi che consentono l'eliminazione del radiofarmaco che avviene prevalentemente per via urinaria all'interno di vasche di decantazione consentendo così allo iodio di decadere prima di essere immesso nella rete foniaria cittadina il trattamento è ben tollerato è estremamente maneggevole e la stessa somministrazione del radioiodio è sostanzialmente banale avviene per via orale sia utilizzando delle capsule gelatinose oppure anche una soluzione liquida oppure mediante iniezione per via endovenosa gli effetti collaterali sono decisamente contenuti nausea, un po' di vomito, cefalea e comunque solitamente regrediscono da soli o sono gestibili e trattabili con i comuni farmaci sintomatici è molto interessante decisamente con tanti dettagli ma di una grande semplicità nonostante ovviamente il linguaggio tecnico ma visto che non abbiamo più molto tempo raccontiamo anche un po' la questione del come si vive senza tiroide rassicuriamo anche in questo campo Fortunatamente la tiroide è un organo che può essere sostituito facilmente non è come il cuore ad esempio o il fegato con una compressa con una semplice compressa o anche un flaconcino liquido perché adesso c'è anche la formulazione liquida cioè si prende quotidianamente tutte le mattine la dose giusta di ormone tiredeo e in questo modo il paziente Diciamo che la chimica svolge il lavoro che prima svolgeva la ghiandola Sì, ormai da tanti anni è stato sintetizzato in laboratorio l'ormone tiredeo e quindi il paziente segue una vita praticamente normale ci sono anche degli olimpionici senza tiroide che hanno vinto medaglie d'oro alle olimpiadi quindi questo dimostra che non c'è nessuna diciamo diminuzione di attività dell'organismo Ma azzeccare la terapia sostitutiva può provocare problemi a seconda delle persone oppure di solito? No, non è difficile per l'endocrinologo è un po' l'ABC del suo lavoro è facile monitorare il paziente e aggiustare la terapia in modo da dare la dose giusta per quel paziente Ecco, nella vostra unità operativa di endocrinologia sicuramente avrete visto tanti e tanti casi diversi quindi se in chiusura proprio ce ne vuole citare uno? Sì, no, più che citare un caso in particolare vorrei dire sì, noi siamo uno dei centri in Italia che più si occupa di tumori tirodei e siamo, se mandano l'ultima diapositiva ecco, facciamo parte, siamo soci, tra i soci fondatori di questo osservatorio dei tumori tirodei che adesso, ad oggi, conta più di 40 centri in Italia quindi copre praticamente tutta la nostra penisola ed è molto importante perché questo serve anche fra i centri a scambiarsi informazioni riguardo proprio ai pazienti e in ultima analisi a seguirli meglio Certo, dottore ancora una volta la sua presenza qui è stata preziosa noi la ringraziamo così come ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito in questa puntata di Spazio Salute dedicata ai tumori alla tiroide grazie